Ciao a tutti i picciotti, io sono Fivopoe, oggi siamo tornati, ho fatto così tipo da coro con lo stadio, comunque oggi siamo tornati su Clash Royale, ragazzi prima di iniziare il video, praticamente sto usando un'altra applicazione per registrare lo schermo del telefono, quindi se la qualità non sarà uguale ai video precedenti che ho fatto su Clash Royale, che poi sono due o uno, va bene, allora appena la trovo e cambierò di nuovo l'applicazione, semplicemente che sto provando qualche applicazione che mi registra a 60 frame, piuttosto perché io ho notato che con la vecchia applicazione andava leggermente a scatti il gioco, cioè proprio una cosa pochissima, però non è una secondo me tanto bella da vedere, quindi oggi provo. E inoltre sono messo una posizione talmente scomoda per giocare, c'ho il telefono qua, che mi devo tenere, c'ho il bicipite penso tutto contratto, comunque perché c'ho il caricabatteria peso lì e il filo non è tanto lungo, quindi è abbastanza corto, e mi dovrò mettere in posizione un po' scomoda. Allora, il deck che però sto usando è questo, ma in realtà ci sarebbe anche questo qui, ma che lo sto potenziando, vedete c'ho le carte tra i miei domatori che ho fatto all'otto, quindi è da tanto che non ci vedevamo su Clash Royale. Dove potenziare, ed è che infatti io, anche se perdo il mio M100, non fa niente, non fa niente, ho provato a fare la sfida della cura, comunque non sono riuscito, ragazzi dico, anche se perdo non ci fa niente, alla fine se scendiamo per un certo punto, per una certa cosa è meglio, così mi potenzio proprio le carte che uso, e poi salgo, stavo dicendo sanisco, e poi salgo tranquillamente. Pizziamo bene il caricabatteria, perché non mi era appizzato bene, allora stiamo realizzando tutto a posto, io direi, andiamo in battaglia, ok, subito, controllo livello 9, Giochiamo bene, spero che l'audio del gioco si senta, perché voglio fare in modo che si senta anche l'audio del gioco. Lui mette il mago, andiamo con la principessa, se no sono abbastanza scomodo messo così, comunque, se non mette il gigante o qualcosa del genere avanti, non è male. Possiamo fare così, con il nostro mini pecca, ok, lui c'ha, ok, vediamo se riesce a dare un colpo, non l'ha dato, non l'ha dato. Allora, facciamo che leviamo subito questa principessa, che ci dà fastidio adesso, quello lì vi lascerei pure, anzi, vabbè, per trema me che ce l'ha dato questo bisogno di... Allora, facciamo che andiamo ad attaccare, facciamo proprio un piccolo rush, per vedere qui c'è il voya, però ha gelato pure lui, è un bastardo di merda, non lo mi sono e ci domano, ma... Allora, domatore 8 che fa i tuoi danni, li fai i danni, assolutamente, qui ci mettiamo il mini pecca per fare il danno, anche lui è il domatore di livello 8, che è il mini pecca che dovrebbe fare qualche, in effetto, grande mini pecca, tra l'altro, vediamo, dovremmo essere, cosa non va andare, vediamo se riesce a levare, a grande principessa, Lui dovrebbe essere un po' più basso, per quanto riguarda il suo desiderio, perché c'è quella principessa lì, esatto, adesso lui deve sprecare, praticamente, un sacco, Non c'era neanche bisogno, infatti che lui c'è anche la gelo, quindi... Vedete, però adesso facciamo una cosa, noi aspettiamo, aspettiamo, non tornare, zacchete, a gelare, adesso, ecco, forse potevo, potevo fare un po' di meglio, perché, effettivamente, sapevo che lui aveva questa cosa, Allora, facciamo adesso, questi qui, mi levano di mezzo la principessa, poi c'è questo qua, la zappi che oggi non l'abbiamo neanche utilizzato, tra l'altro, mettiamo un'orda di sghetti, prima che, perché il consumatore, vedete che è un po' un merda, eh? Allora, quella lì, alla fine, non c'era neanche bisogno, lo dobbiamo fare, beh, però dobbiamo togliere quel malo di merda, però l'abbiamo tolto, non ci sono problemi, e poi, comunque, in questo video faremo soltanto una partita, perché voglio provare, più che altro, la nuova applicazione per registrare, vediamo, C'è una scarica, vabbè, abbiamo vinto, tra l'altro, mancano 72 vittorie per il polo leggerario, quindi, ancora ne abbiamo, perché, in un ondoria, si deve andare sopra le 400 vittorie, e, in questo caso, sono a 356, che non c'entrano, come vedete, il mio record è 2805, quindi, fa niente, ah, niente, ragazzi, questo video è finito qua, Io, comunque, ti andrò a fare altre partite, spero che vi sia piaciuto, è stato corto, provare una nuova applicazione, e, niente, ci vediamo nel prossimo video, vi dobbiamo iscrivervi al canale, lasciare un bel mi piace, e, niente, ciao, ciao, ciao!